è Ucraina, Ucraina, gli orrori della guerra da Donatella di Cesare a Furio Colombo la notizia l'ho letta sul Fatto Quotidiano e tale notizia ve la metto come link riassunto di questo video quindi, ripeto, questo video si intitola Ucraina, gli orrori della guerra da Donatella di Cesare a Furio Colombo allora, cominciamo Donatella di Cesare è una bella e brava signora è una professoressa universitaria di filosofia è anche una giornalista scrive sul Corriere della Sera Donatella di Cesare, è docente universitaria di filosofia ha scritto molte opere, molte opere, sapete? molte opere sulla, diciamo così, sugli ebrei sulla condizione degli ebrei ai tempi della Shoah, eccetera, eccetera, eccetera Donatella di Cesare il fatto è che Donatella di Cesare nei confronti di questa terribile guerra ha un atteggiamento appunto filosofico Donatella di Cesare ci chiede ma vabbè, sì sì, c'è la guerra la guerra è orribile ma perché è stata scatenata questa guerra? sì sì, anche per Donatella di Cesare la guerra, ogni guerra è orribile però Donatella di Cesare si chiede di chi sono le colpe di chi sono le colpe di chi sono le colpe e gratta, gratta, gratta vai a vedere che l'Ucraina ne ha tante, tante, tante di colpe tante, tante colpe c'ha l'Ucraina perché l'Ucraina da 2014 ad oggi cioè per 7-8 anni è diventato il grande arsenale l'arsenale della NATO si è riempita di bombe l'Ucraina si è riempita di bombe, bombe si è riempita di missili si è riempita è diventata la Santa Barbara della NATO ai confini con la Russia è una provocazione nei confronti della federazione russa e quindi Donatella di Cesare che di certo ama la pace Donatella di Cesare Donatella di Cesare professoressa universitaria di filosofia di certo ama la pace la ama la pace come la amiamo tutti però dice ma com'è che l'Ucraina che l'Ucraina continuava ad armarsi perché si armava perché voleva entrare dentro la NATO per quale motivo voleva entrare dentro la NATO perché che male ha fatto la federazione russa di Vladimir Putin all'Ucraina che male gli ha fatto bene e polemizzava Donatella di Cesare contro il potentissimo giornalista Paolo Mieli Paolo Mieli cose allucinanti cose allucinanti e si vede si vede che Donatella di Cesare che so io volontariamente o involontariamente magari in qualche suo intervento televisivo Donatella di Cesare ha tirato un ballo pure Furio Colombo Furio Colombo grandissimo giornalista americanista pensate che Giulio Colombo è stato nel 1931 nel 31 quindi ha 91 anni Furio Colombo 91 anni io invece Serafino Massoni ne ho soltanto 82 di anni Furio Colombo ha 91 anni è un potentissimo giornalista americanista e Furio Colombo adesso diciamo un po' che polemizza un po' con Donatella di Cesare perché dice cara Donatella di Cesare io Furio Colombo ti apprezzo ti voglio bene ma per quale motivo io avrei per quale motivo io Furio Colombo dovrei essere criticabile perché invece di mettermi dalla parte delle bombe mi sono messo dalla parte dei bambini dei bambini si dice così Furio Colombo io la notizia l'ho letta sul fatto quotidiano è tale notizia veramente come ligno di assunto di questo video cioè Furio Colombo è una persona distinta un americanista è un americanista in un certo senso un giornalista americanista è stato un po' il padre il papà giornalistico di Federico Rappini Federico Rappini Federico Rappini sapete quello che c'ha le bretelle le bretelle le bretelle americanista pure Federico Rappini taglia copia e incolla taglia copia e incolla e allora Furio Colombo dice alla professoressa Donatella di Cesare ma Donatella di Cesare io Furio Colombo sono forse criticabile perché invece di stare dalla parte delle bombe mi sono messo dalla parte dei bambini vabbè qua è inutile tirare in ballo la questione dell'irag di Saddam Hussein perché c'erano pure dai bambini i bambini c'erano pure nella Libia il colonnello che dà fiù quanti bambini che c'erano nel Vietnam con le bombe al Napalm al Napalm le bombe al Napalm che poi ci hanno fatto pure un film sul Vietnam Apocalypse Now Apocalypse Now solo che il cuore di tenebra il celeberimo romanzo di Josef Conrad è ambientato dentro il Congo allora del Belgio il Congo belga e invece Apocalypse Now che si ispira al cuore di tenebra di Josef Conrad è ambientato al Vietnam quanto tempo che è durata la guerra in Vietnam caro Furio Colombo forse tu allora facevi il corrispondente facevi il corrispondente dall'America quanto tempo che è durata la guerra in Vietnam con le bombe al Napalm perché le bombe al Napalm dovevano defoliare defoliare tutte le foreste del Vietnam in maniera che i Vietcong non si potessero nascondere all'interno delle foreste erano defolianti le bombe al Napalm tutte le sterbigate foreste del Vietnam vennero defoliate e private delle foglie restarono solo i tronchi e i rami capito pensate un po' voi che bello e chiaro e questa è un'altra guerra con le distruzioni ma caro Furio Colombo tu ti devi chiedere però per quale motivo il patriarca Kirill di Mosca ha detto che la colpa di ciò che succede in Ucraina è dell'Occidente lo sai mica soltanto la professoressa Donatella di Cesare ha avuto come dire dei dubbi su questa faccenda e anche il patriarca di Mosca Kirill il capo della chiesa cristiana greco-ortodossa della Federazione russa ha detto che la colpa di ciò che avviene in Ucraina è dell'Occidente Furio Colombo lo sapevi questo? e sapevi Furio Colombo che mica solo Donatella di Cesare mica soltanto la professoressa Donatella di Cesare diciamo che ha avuto dei sospetti nei confronti dell'Ucraina dei sospetti nei confronti dell'Ucraina ce l'ha anche lo Stato di Israele Donate caro Furio Colombo lo sai che anche lo Stato di Israele ha dei sospetti nei confronti dell'Ucraina te lo dico io tu c'hai 91 anni io c'hanno pure 82 siamo due in tacco gli anni e vedi la 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 stella di David la stella di David vuol dire il Stato di Israele lo sai la bandiera dello Stato di Israele c'ha la stella di David lo Stato di Israele non si è messo contro Putin anche se in Ucraina ci sono le bombe e ci sono i bambini i bambini che muoiono e lo Stato di Israele non ci si è mica messo non si è mica messo contro Putin Furio Colombo che facciamo Furio Colombo una bella polemica anche con lo Stato di Israele che non si è messo contro Putin Furio Colombo che facciamo che facciamo Furio Colombo ma lo sai Furio Colombo che dentro l'Ucraina c'è una vasta comunità ebraica che si lamenta lo sai Furio Colombo che dentro l'Ucraina c'è una vasta comunità ebraica che si lamenta perché dentro l'Ucraina scorre scorre serpeggia un po' di croce uccinata lo sai a parte i due celebri battaglioni neonazisti Azov e Centuria a parte quelli che sono soltanto la punta dell'Eisberg a parte quello ma la comunità ebraica in Ucraina si lamenta per come gli ebrei in Ucraina vengono trattati dalla popolazione tu mi dirai Furio Colombo ma in Ucraina c'è un presidente ebreo e che vuol dire questo presidente ebreo Zelensky il presidente ebreo dell'Ucraina è un presidente ebreo che sembra che non gli voglia mica tanto bene alla terra di Davide e non ci sono forse pure dentro il mondo cristiano che non vogliono bene alla croce ce ne sono dei cristiani dentro il cristianesimo che non vogliono bene alla croce e così ci sono degli ebrei che non vogliono bene alla stella di Davide sembra che il presidente dell'Ucraina Zelensky non gli voglia tanto bene alla 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 croce alla alla stella di Davide capito tanto è vero che la comunità ebraica che sta dentro l'Ucraina si lamenta fate informare perché la comunità ebraica che sta dentro l'Ucraina si lamenta Furio Colombo e quando Putin ha detto che vuole denazificare l'Ucraina e ha detto una cosa giusta ha detto una cosa giusta lo sapevi Furio Colombo che Vladimir Putin la federazione russa il patriarchy a Kirill vogliono denazificare l'Ucraina e muovono i bambini ma anche per denazificare la Germania sono morti tanti bambini lo sai che la Germania è stata rasa al suolo quanti bambini sono morti in Germania poi anche Dresda eravamo quando marzo-aprile del 44 44 200.000 bombardamenti che hanno procurato due o trecentomila morti in una città come Dresda eravamo ormai alla fine della guerra e quanti bambini che sono morti perché questo perché perché si voleva denazificare la Germania e in un certo senso si voleva anche denazificare il Giappone l'impero del Sollevante che si era alleato con Berlino e con Roma e alla fine della guerra ci furono due bombe atomiche Hiroshima e Nagasaki le bombe atomiche sì è vero furono sganciate per accorciare i tempi della guerra ma mica furono sganciate su obiettivi obiettivi militari e furio colombo quelle due bombe atomiche furono sganciate su obiettivi civili Hiroshima e Nagasaki eh caro caro dai io dico una cosa che devi essere più cordiale con la professoressa Donatella di Cesare soprattutto devi volere bene a Serafino Massoni furio colombo sì tu hai 91 anni io ce ne ho appena 82 io mi complimento con te furio colombo eh tu sei giornalisticamente parlando il figlio di Federico Rampini eh lo sai cosa cosa hanno detto tempo fa i giornali i giornali italiani di Federico Rampini parlavano di taglia copia e colla lo sai lo sai furio colombo quanto 8-10 anni fa i giornali italiani parlavano di Federico Rampini potentissimo americanista e dicevano taglia copia e colla hai capito furio colombo che situazioni senti furio colombo io ti voglio tanto bene caro eh senti caro se tu mi farai per finire il tuo preciso recapito postale io Serafino Massoni a mie complete spese ti farò pervenire una coppia di questo mio romanzo storico vedi Marinaio dell'Antille che è ambientato dentro il Terzo Reich vedi da una parte c'è la stella di Davide e dall'altra la croce uccinata pensa furio colombo che il cru il cuore il cuore di questo romanzo storico è la notte la notte dei lunghi coltelli capito il 1934 pensa quanto è affascinante questo romanzo furio colombo va bene furio colombo a te furio colombo alla professoressa Donatella di Cesare al giornalista Paolo Mieli e a tutti voi amici miei tanti cari saluti tanti saluti al fatto quotidiano è il fatto quotidiano